Signori e signori, buonasera, siamo arrivati alla seconda edizione della Corri per Mestre, città di Venezia. L'organizzazione è splendida, è la prima volta che partecipo, però bene, speriamo ci sia anche molta più gente perché deve coinvolgere tutta la città di Mestre. Perché ho appena iniziato con i bastoncini. Quindi hai partecipato anche alla prima serata degli allenamenti. Sono arrivata ultima, ma sono arrivata contentissima perché l'ho fatta. Io spero di arrivare almeno penultima stavolta. Un bel momento di stare insieme, di correre, di tenersi anche in forma, ma di tenere in forma soprattutto la società, la mente, lo spirito, ma anche la città stessa che siamo tutti noi messi insieme. Grazie a tutte le assoluzioni sportive, ma grazie soprattutto agli atleti che anche questa sera è la seconda volta che il tempo ci prende un po' in giro. Però vedo che siete lo stesso numerosi. Grazie del vostro coraggio, restate vicini, continuate ad amare questa manifestazione e diffondetela sempre più.